Buongiorno, in tre minuti cos'è CTF, chimica e tecnologia farmaceutiche. Già evidenzia la multidisciplinarità del corso e porta a pensare. Ne esco esperto in chimica, in sintesi, in analisi, in tecnologia, preparatore galenico o industriale, del farmaco. In realtà, visto così, è molto riduttivo, dà solo una minima idea di cosa si fa e si diventa. È un corso di laurea che fornisce competenze a 360 gradi sul farmaco, dalla sua sintesi, progettazione, allo studio di efficacia in vitro e in vivo, alla sua regolamentazione, ma dà competenze anche sul cosmetico, sull'erboristico, i prodotti per il settore alimentare, per la salute e il benessere. Quindi, direi, di fondamentale importanza sono le conoscenze didattiche, tecniche e scientifiche che vengono fornite allo studente, la curiosità e la passione per lo studio e la ricerca, che spero riusciremo a trasmettervi per progettare, testare e mettere in commercio un principio attivo, acquisendo competenze varie che ognuno saprà sfruttare al meglio nell'ambito in cui lavorerà. Io, ad esempio, sono docente di anatomia, esco da una tesi in tossicologia forense sul rilievo nei capelli di droghe d'abuso, quindi analisi chimica, e lavoro con cellule per testare la biocompatibilità di materiali protesici, studio la rigenerazione tessutale, collaboro con chimici, ingegneri e clinici. Tutto apparentemente molto lontano dal mio pensiero iniziale. Sbocchi lavorativi assicurati. Questo è un punto chiave. Sbocchi di vario tipo, ma assicurati al 100% nell'immediato post laurea. Da quest'anno, essendo diventata laurea professionalizzante, tra l'altro non serve più neanche l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione del farmacista, che però, come dicevo, è solo uno di tanti, tanti sbocchi lavorativi. Altro punto che mi sento di poter sottolineare riguarda il rapporto che c'è tra studenti e docenti. Essendo la numerosità del corso non elevata, c'è la possibilità di essere seguiti nello studio e nei laboratori, in una crescita individuale, con apertura dei docenti nell'ascoltare e dare spazio agli studenti, alle loro idee, alle loro potenzialità e guidarli nel percorso di laurea e post laurea. Io dico sempre, ho due figli a casa, ma ne ho molti altri in aula, che diventano figli lavorativi quando intesi. Spero di essere stata chiara, di aver tolto qualche dubbio, il resto lo trovate sul sito e vi invito assolutamente per una visita alle nostre strutture, per vedere i laboratori, le aule, gli ambienti, trovare conferme si dove trascorrere i cinque anni più belli e costruttivi della vostra vita. Perché al lupo? Come dice il professor Barbero, perché siamo bravi!